L'unità di crisi della regione Campania, riunita per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d'età, invierà a tutti i prefetti e ai sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale, il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio. Contestualmente, con l'arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico come da protocollo attuale per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni e progressivamente fino alla copertura totale anche oltre i 55 anni. Grazie. Grazie.